Un posto al sole, il segreto shock di Diego Un posto al sole continua ad appassionare il pubblico di Rai 3, che segue con interesse ed entusiasmo la soppopera girata a Napoli. Secondo le nuove anticipazioni, anche i prossimi episodi, in onda dal 5 al 9 marzo, regaleranno emozioni e sorprese ai suoi fedelissimi fan. Al centro della scena, infatti, oltre al ritorno di fiamma tra Franco e Angela e alle macchinazioni di Alberto ai danni di Roberto, assisteremo allo struggimento di Diego per Rossella. Vediamo, nel dettaglio, cosa succederà a Palazzo Palladini la prossima settimana. Franco e Angela decidono di sposarsi, Gaetano Prisco ha le ore contate. . Secondo le nuove anticipazioni di Un posto al sole, nei prossimi episodi terranno ancora banco le vicende legate al destino di Franco, il quale, una volta chiarita la sua posizione rispetto allaggressione ai danni di Gaetano Prisco, si appresterà a dire addio a Don Peppino e a fare ritorno a casa, da Angela e Bianca. . Il Boschi e la figlia di Giulia e Renato decideranno di sposarsi e comunicheranno la notizia in famiglia. . Intanto, luomo dovrà fare i conti con il ritorno di Ciro, che deciderà di aiutare la polizia ad incriminare lusuraio fornendo le prove delle sue malefatte. . Prisco, dunque, alle ore contate?. . La gelosia di Michele. . . Da mesi il pubblico di Un posto al sole si chiedeva chi fosse ledditor Emanuele Roversi, che aveva iniziato a collaborare con Silvia alla stesura del suo romanzo, ma che non era ancora apparso in video, limitandosi a telefonare in più occasioni alla scrittrice. . . La voce misteriosa aveva dato adito a diverse congetture e, finalmente i fan della serie, nel corso delle puntate che andranno in onda la prossima settimana, daranno un volto al personaggio, il quale intrigherà particolarmente Silvia, provocando linaspettata gelosia di Michele. . Sarà allinizio di una crisi di coppia? Intanto, Roversi, svelerà ben presto un lato insolito, cosa nasconderà?. . Passione tra Anita e Vittorio, Roberto e Sandro sempre più in crisi. . Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che, a sorpresa, proprio quando Vittorio si rassegnerà con Anita, tra i due ragazzi scoppierà la passione. . . Purtroppo, però, poco dopo la giovane si rivelerà fredda e scostante e Vittorio attribuirà a Luca Grimaldi il suo atteggiamento, ignaro che luomo, in realtà, sta tenendo nascosto un incredibile segreto su di lei. . Alberto e Veronica continueranno a tramare alla spalle di Roberto, utilizzando Sandro. . Marina, intanto, verrà a conoscenza del fatto che Ferri ha trattato con la Viscardi senza dirle nulla. . Diego confessa al padre un clamoroso segreto. . . Infine, chiudiamo le anticipazioni di Un posto al sole con il tormentato sentimento che sta nascendo tra Diego e Rossella, la quale vivrà con sempre maggiore tensione e crisi la distanza impostale dal ragazzo, arrivando anche a discutere con la madre Silvia in più di unoccasione. . Intanto, il giovane deciderà di confidare al padre Raffaele il suo clamoroso segreto e gli racconterà di quanto sia difficile per lui stare lontano dallex fidanzata del fratello Patrizio. .